Tutto bene, la vittoria è un po' stretta, secondo me abbiamo giocato una grande partita dal primo all'inizio, fatta di ritmi, di intensità, di buona qualità, a volte siamo un po' complicati la vita inseguendo qualche nostro errore, poi la regina è venuta per giocarsi alla partita, l'ho già detto anche prima, un buon organico, la squadra messa bene in campo, provavano a ripartire, hanno fatto alcune volte anche bene, poi però noi abbiamo mantenuto quei ritmi dall'inizio alla fine, con grande intensità, con grande coralità, sempre, quindi abbiamo costretti, con il passato dei minuti, un po' ad abbassare il baricentro, è stata questa un po' la chiave di volta, ma è una vittoria meritata, ottenuta col gioco, poi abbiamo sciupato, abbiamo sprecato, ma vabbè, ci sta, nessuno fa apposto a sbagliare. Ciao Ministro, è quasi un peccato dover creare così tanto, prima di fare conno, vorrei sapere se questo magari potrebbe essere un limite, perché magari non serve se si può creare così tanto e giocare così bene, la prima cosa, poi il cambio di 4-2, 3-1, E alla fine, dopo questa grandissima partita, dopo tantissime occasioni, la risolta di ciò a punto. No, ma sono tutte interpretazioni molto puerili, secondo me, tutto quello che... No, sono interpretazioni che... Cioè, tutte letture... Mi sembra che ogni tanto, su quello che vedete, un giorno date giudizi, anzi, più che giudizi, sentenze, e poi il giorno dopo magari queste sentenze si cambiano, al contrario. Io inviterei tutti a essere un po' più cauti, un po' più... abbiamo prodotto tanto e a concentrarsi su quello che la squadra fa. Non ci sta che le partite si possono vincere 1-0. Perché giochiamo da soli. La regina si è battuta bene, si è difesa bene, ho detto prima, ha cercato di interpretare anche una partita senza rinunciare, cercando di uscire con pericolosità, poi però la nostra intensità, i nostri ritmi, li hanno costretti sulla difensiva. Poi ci vuole la punta, oggi abbiamo fatto quel così, ne potevamo fare altri diversamente, ma serve tutto nell'arco di un campionato. Però piano, con le sentenze, nel calcio non c'è una legge assoluta. E quindi, sapete qual è la legge assoluta? Quello che la squadra produce, a me la squadra è piaciuta tantissimo, se non sotto ogni punto di vista, se non nelle situazioni in cui ci incartiamo da soli e rincorriamo noi stessi praticamente con una serie di errori gratuiti che dovremmo evitare di commettere, perché bisognerebbe essere in quelle situazioni un po' più semplici e un po' più risoluti. Però, è stata una bella partita a merito anche della regina, un bel derby, giocato su ritmi alti, noi l'abbiamo vinta con merito, perché più passavano i minuti e più abbiamo mantenuto questa grande intensità e questa grande coralità, assieme a questi equilibri sempre. Ma onora al merito anche alla regina, che esce chiaramente sconfitta, non è che può rammaricarsi di chi, ma che ha giocato una partita volitiva, gagliarda, molto attenta, fatta di corsa, di sacrificio e anche di intraprendenza in alcuni momenti. Poi, ripeto, siamo stati bravi noi anche a frenare questa loro intraprendenza. Ministro, buonasera. 415 minuti di immattibilità, quindi il Catanzaro ha anche qualità dietro. E poi, lei ha voluto vincere, ieri aveva detto, dobbiamo andare alla ricerca spissiante nei tre punti, penso che i cambi, soprattutto nel secondo tempo, hanno dimostrato questo. Grazie. No, un allenatore fa quello che la situazione del momento, la lettura della partita, come si sviluppa, l'evoluzione della gara, mettendo un insieme di variabili dentro, è quello che fa quello che sente di fare, però analizzando... Era il momento di farlo, perché c'erano i criteri, per qualche minuto non ci siamo subito trovati bene, poi invece abbiamo continuato, ma perché un po' il gioco veniva spezzettato, perché poi a un certo punto un po' la regina ha rinunciato rispetto al dato di partenza, che era quello di giocarsi la partita, quindi hanno un po' speculato su... Ma tutto normale, per carità, sto dicendo io un pochino, in alcuni momenti i ritmi si sono alzati, però quando poi la ripresa del gioco non era immediata. Ma al di là di tutte queste cose, ho detto, è stata una bella partita, secondo me, anche di alto profilo per il livello medio della Serie C. È onore alle due squadre, noi chiaramente l'abbiamo vinta con merito. Sulla parte difensiva? Allora, la parte difensiva... abbiamo qualità, abbiamo qualità con tanti giocatori, poi giochiamo sempre da squadra, quando ci difendiamo, difendiamo coralmente, quando attacchiamo cerchiamo di farlo nello stesso identico modo, cercando di rispettare alcuni criteri, alcuni equilibri che sono fondamentali. Fa piacere però, insomma, non è che lo sottolineerei più di tanto, poi porta sfiga sottolineare, manco lo diciamo, è meglio. Le volevo chiedere, sono d'accordo con lei sul fatto che sia stata una bellissima partita, le volevo chiedere se è stato però facilitato il gioco del Cardanzaro, le tante occasioni create, a mio parere, forse è meglio prestazione dal punto di vista offensivo, facilitato dallo schieramento della vicina, che è vero, si è venuta a giocare una partita, però con due esterni che erano quasi due ali e lasciano parecchi spazi. E poi le volevo chiedere, o quantomeno deduco dalle sue parole, che non ha cambiato la gerarchia, questo conto, infatti non le gerarchie davanti non le ha cambiate. No, ma qua non ce ne sono gerarchie, poi quello che voi scrivete, gerarchie, che io non ho mai detto, deve passare per verità, continuo a dirvi, non ce ne sono gerarchie. Si cerca di impiegare tutti, si cerca di portare tutti alla massima condizione, alla massima forma. Io cerco di impiegare i giocatori nei loro aspetti funzionali, migliori, più positivi. Dopo non ci sono veramente gerarchie, perché non ce ne possono essere. Poi in questo periodo, meno che meno, fra tre giorni rigiochiamo di nuovo e saremo alla terza partita. Come avete visto, sia sabato che stasera il campo era pesante, questo rimane sulle gambe. Fortunatamente stiamo bene dal punto di vista fisico, quindi sono convinto che recupereremo. L'assetto tattico della regina, ma la regina è venuta a giocarsi alla partita. Inizialmente sono anche usciti con qualche fraseggio pericoloso in alcuni momenti, ma perché c'erano giocatori che hanno qualità, a Tulissi, a Mausso, a San Domenico, centrocampisti, la difesa che li sostiene. Poi dico che siamo stati bravi noi a evitare questo. La partita è stata, diciamo qui, nell'evitare questa dipartenza, nel dare continuità al gioco d'attacco e nel tenerci sempre corti ed equilibrati. Mister, lei ormai si è abituato a vincere le partite nel secondo tempo, grazie ai cambi, specie in attacco, che è successo anche oggi. Almeno a mio avviso, però, ha influito oggi il fatto che dopo i suoi cambi, insomma, la regina poco ha cambiato, se non con l'inserimento di Zicco e Cevoli, diciamo, probabilmente era prevedibile che, insomma, la regina stessa poteva sentire un uomo con il pantino in aria. Secondo lei, insomma, di continuare questo concorso? Ma no, voi mi portate su disquisizioni tattiche che poi in qualche modo coinvolgono il giudizio sull'avversario, che a me non mi va. Né di dare, neanche mi sento veramente in grado di giudicare quello che gli altri fanno. Io mi limitico a giudicare la partita, che è stata una bella gara, veramente. Anche, lo ripeto, per merito della regina, che c'è giocatori di qualità, è che noi abbiamo prodotto tanto, tantissimo, senza concretizzare. Abbiamo fatto un gol, ma serve tutto, serve tutto. La cosa importante è concentrarci sulla prestazione, fare le riflessioni su come abbiamo vinto la gara, su come la squadra sta crescendo, e credo che questo sia un aspetto positivo. Grazie a tutti.